Le operazioni di contrasto e di repressione di pusher e spacciatori nei boschi della droga in Lombardia, a Como e a Varese, sta dando risultati straordinari. Pusher arrestati, giacigli e bivacchi smantellati, quantitativi di droga, armi e denaro sequestrati. L'operazione delle forze di polizia, unitamente all'ausilio dei cacciatori di Puglia, Calabria e Sicilia, reparti specializzati dell'arma dei carabinieri, sta ripristinando sicurezza e legalità. Stiamo riportando vivibilità e libertà nei nostri boschi, boschi che tornano ad essere vissuti da cittadini e da famiglie. Un'operazione importante di repressione e di ripristino della legalità. Queste operazioni, boschi sicuri, continueranno anche nelle prossime settimane perché lo Stato vince e non daremo tregua a pusher spacciatori e a venditori di morte.